La Gran Bretagna va oggi alle urne per una tornata elettorale dominata dall'incertezza. Tutti i sondaggi sono concordi nel prevedere un testa a testa tra il premier uscente, il conservatore David Cameron, e il suo sfidante laburista Ed Milliband, separati da meno di un punto percentuale. Nessuno dei due partiti avrebbe comunque la maggioranza assoluta di 326 seggi, ragione per la quale sarà necessario costituire una coalizione di governo. Attesa anche per il risultato degli anti-europeisti guidati da Nigel Farage, che in base ai sondaggi otterrebbe un 14%, ma soli 5 deputati. In crescita invece vengono dati i nazionalisti scozzesi di Andrea Sturgen, che con un programma più a sinistra di quello dei laburisti, puntano a conquistare almeno 50 dei 59 collegioni nominali di Scozia. Infine i centristi liberal-democratici guidati dal vicepremier Nick Clegg, che potrebbero diventare l'ago della bilancia nel caso di coalizioni sia di centrosinistra che di centrodestra. Sono chiamati alle urne 45 milioni di cittadini e si può votare fino a stasera alle 22, ora locale. Grazie. 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 Grazie.